E ben a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Samuel Lebon, in questo nuovo video pazzesco, invito subito a lasciare like, iscrivetevi al canale per nuovi video e soprattutto volevo ringraziare Fiskosen con cui ho iniziato a collaborare e vabbè, me ne parlerò dopo perché è molto interessante, magari vi darò una piccola parte di cosa fa Fiskosen, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. E niente ragazzi, che cosa dire, che cosa diciamo su questo metodo di compravendita incredibile? Beh, innanzitutto vi dico anche che è ancora aperto il gruppo compravendita, sempre link in bio, su appunto la compravendita di Pio23 e se volete potete anche scaricare l'applicazione numero 10, applicazione sportiva migliore al mondo. Allora, questo è un video YouTube, in realtà che ho registrato prima sulla mia PlayStation perché ho, diciamo, testato alcune carte per voi. E volevo anche farvi vedere che il metodo overpriced selling, metodo che, diciamo, porto sia nel mio gruppo che, peraltro, sto preparando una bel listone di giocatori da provare e li sto testando, li sto testando per voi. Li sto testando per voi. Alcuni li ho testati, vabbè, Sanse e Diogo Costa erano quasi sicuri di venderli perché l'ho preso in un momento veramente, che era un prezzo veramente ridicolo. Di tutte queste carte qua, ragazzi, le ho prese a, fate conto, questo l'ho venduto a 25.500, quindi l'ho preso più o meno massimo a 21.000. Quindi diciamo che c'è un guadagno sui 2k, 2k e mezzo, a seconda della carta di quanto l'ho venduta. Ora, come potete vedere, c'è una sfilata di Icone. Icone li ho venduti molto bene, invece. Sono molto contento su Icone. Carta che, peraltro, per chi ha appena iniziato a giocare a FIFA Ultimate Team, secondo me è una buonissima carta da mettere come anche punta. Ha veramente delle belle statistiche, quindi ve lo consiglio. A parte questo, noi siamo qua per fare compravendita. Quindi, comunque sia Icone top carta, ve lo stra, 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 ripeto, stra consiglio. Carta molto, molto forte per fare compravendita. L'ho provato, testato. Tutte queste carte qua, adesso vi faccio vedere come le ho vendute a tutti i prezzi diversi. 25.250, questo quasi 26.000, questo 26.000, quindi questo 20.500. Cioè, come potete vedere, le ho messe praticamente tutti a prezzo diverso e sono riuscite a vendarle tutte, praticamente. Le ho prese 5, le ho vendute 4, quindi li sto ancora vendendo, perché comunque questo metodo ci vuole un pochino di tempo. Però, non riempiendo la lista, cioè, perché comunque faccio anche altre cose, non riempiendo la lista di 100 giocatori, riesco a farci comunque dei guadagni. Quindi, vi ripeto, questa carta qua l'ho presa 21, massimo 22.000, proprio a dire tanto, e le ho vendute quasi tutte vicino ai 26.000. Quindi, un bel guadagno. Fate un, vi faccio un esempio. Se queste carte, se facciamo un riempimento della lista di trasferimenti, di tutte queste carte, e riuscivo a guadagnare, che ne so, facciamo un esempio, 2.000 di media a carta, insomma, fate i vostri conti. Sono bei soldini. Ed è per questo che è un metodo incredibile, che cerco di portare nel mio gruppo compraventa. Quindi, se volete, mi raccomando, sempre link in bio. Dateci un'occhiata, che secondo me è un metodo incredibile. Dateci assolutamente un'occhiata, perché ci sono ancora posti liberi. Ovviamente, in questa lista vi dirò i giocatori da prendere, i nomi, eccetera, eccetera. Allora, vabbè, vi faccio vedere le icone. Andiamo avanti nel video. Vediamo un po'. Ok, ci sono anche i Doomfrees. A proposito di investimenti su FUT e su Doomfrees, ma se volessi aprire una piccola attività nella realtà? Ragazzi, proprio in questi mesi mi devo aprire una partita IVA. Il canale YouTube e tutto il resto sta andando molto bene. E in aiuto, ragazzi, è arrivato Fiskosen. Vi assicuro che Fiskosen vi cambierà la vita per quanto riguarda la partita IVA, per quanto riguarda il vostro progetto che volete aprire in questo momento. Avrai un commercialista dedicato e specializzato nella tua professione. Quindi potrai contattarlo quando vuoi, via chat o per email o per telefono. E vi ricordo che Fiskosen vi aiuta sia ad aprire e sia a gestire la vostra partita IVA. Come potete vedere, vi aiuta nella fatturazione elettronica, nel calcolo delle tasse in tempo reale, ripeto, in tempo reale, e soprattutto la dichiarazione dei redditi da fare. C'è un link, il primo link che trovate nella descrizione. Trovate appunto lo sconto esclusivo, il mio sconto esclusivo, che trovate 50 euro in meno nel vostro primo abbonamento annuale e soprattutto una consulenza gratuita per avviare le pratiche della vostra partita IVA. I Doomfries li ho venduti a Fofana, lasciate stare, che è una vendita più una cosa così, ma non c'entra con il metodo. Doomfries invece anche lui l'ho preso sui 20.000 invece mi pare, 21.000. Carino, carino anche lui da vendere, una carta comunque molto utilizzata, ancora oggi, questo ha quasi 25.000. Andiamo avanti nella lista, questo è uguale. Insomma, sono delle carte che, come potete vedere, a volte vengono anche prese non per compra ora ma per offerta, quindi il metodo che trovate, la guida appunto nel gruppo, vi dice anche di variare con i prezzi non compra ora ma in offerta, perché anche in offerta a volte, anche se è strano, no? No, è strano il mercato di FIFA. Noi dobbiamo appunto attaccare, per non dire parole volgari, attaccare chi, diciamo, ne capisce di meno. Ok? Chi ne capisce un po' di meno. Comunque, vi faccio vedere anche altri giocatori, questi sono più giocatori, diciamo, Doomfries e Iconi e i vari Sanse di Ocosta, Sanse di Ocosta sono più da SBC o comunque un altro diverso. Doomfries e Iconi sono più carte da gameplay, che volendo uno, se magari investi FIFA, può utilizzarli, li utilizza, perché comunque ancora oggi, quando gioco anche a Food Champions, li trovo. Altra carta, ragazzi, il buon Rudiger. Come potete vedere, il buon Rudiger, anche lui, sono riuscito a vendolo, tutto sommato, guardate, anche lui, guardate, 26.500, 27.000, lui mi pare che l'ho preso sui 22 barra massimo massimo 23. Ok? Questo, ragazzi, l'ho venduto quasi a 3K in più. No, praticamente a 3K in più, perché... No, più di 3K, più di 3K. Ci guardate più di 3K da Rudiger. E l'ho messi praticamente in uno o due giorni, ma neanche, rimettendoli in lista neanche troppo, perché l'ho rimesso in lista, ragazzi, 5-6 volte a dire tanto, fidatevi, non l'ho messo tanto in lista, perché ultimamente non è che ho tutto il tempo, così mi scordo anche, perché voi dovreste rimettere queste carte, come dico, ho detto in altri video, come dico nella guida, dovreste rimettere queste carte almeno 10 volte al giorno, per riuscire a vendere nel modo più veloce possibile. Invece, l'ho messo veramente poco, queste carte. Veramente poco. Rudiger, vabbè, è una carta da SBC, ma volendo anche da gameplay, quindi è una carta perfetta, secondo me, per quanto mi riguarda. Dembélé, un altro assolutamente perfetto. Vabbè, De Paul e Bonucci sono piccole cose, anche loro sono carte da SBC. Dembélé, ad esempio, che lui, le ho vendute a 5400, però vi faccio anche vedere più avanti che non sempre funzionano, sono delle carte che sto testando che non funzionano. Le testo anche per voi. Dembélé, un'altra carta eccezionale, la carta da gameplay assurda, eccetera, eccetera. Inutile stare qua a perdere tempo, anche lui l'ho preso 4500, l'ho venduto praticamente a 1000 crediti in più, ci ho fatto un piccolo guadagno. Aspiliqueta, Aspiliqueta, invece, è un esempio di carta che vi faccio per chi ha pochissimi crediti, e può essere molto utile. Aspiliqueta l'ho preso A650, massimo 700, l'ho rimenduto a 600, anche l'ho rimenduto tutti sui 1200, ok? Quindi praticamente il doppio. Al doppio ci ho fatto tot credit, comunque sono, fate conto, quattro carte, togliamoci un po' di... di tutto la percentuale e ci facciamo un bel guadagnino, ragazzi. Ci facciamo un bel guadagnino, tutto sommato. Adanne, invece, un altro esempio che vi ho porto. Adanne, invece, l'ho preso a 400, 450, l'ho avuto di 750. Come potete vedere, noi dobbiamo sempre cercare di metterlo a non compra ora, che ci fa guadagnare, non dico il doppio, perché sennò varrebbe anche per le carte che costano 20.000, dovremmo mettere la 40.000, no, non funziona così. Vi faccio un esempio, una carta che costa 20.000, che pagate 20.000, dovete cercare di venderla a 24, ok? Minimo 24, anche 23.000, non sarebbe male. Una carta, per esempio, non ha funzionato, pensavo che funzionasse un pochino meglio, vi faccio vedere. andando avanti nel video, ecco, vabbè, Dunfri se lo sto rivendendo, Correa, Correa non ha funzionato bene, Correa IF, non l'ho venduto neanche uno, forse devo abbassare un po' il prezzo, e andarci a guadagnare, o fare patta, a volte si può fare anche patta, ragazzi, nel senso, patta nel senso che lo rivendete a pochissimo in più, giusto per non perdere le tasse, e niente, vi riprendete i crediti. Un'altra carta che non ha funzionato, per niente, l'ho presa in un momento sbagliatissimo, è stato un errore gravissimo mio, è Mendy, perché adesso è crollato di prezzo, però lo tengo lì, perché io credo che risalirà, visto che comunque Mendy è una carta che è stra-ibridabile, una carta che comunque è molto usata, che si trova spesso tra i popolari, su Foodbin, quindi è una carta che comunque molti ricercano, e quindi assolutamente Mendy, non lo consiglio, ma lo metto in una lista lo stesso, perché comunque è una carta che ad un certo prezzo si può prendere, qui ho fatto una cavolata, l'ho preso a un prezzo veramente esagerato, però se riuscite a prenderlo veramente a 4.000, e rivendolo sarebbe 4.000-5.000, e rivendolo è già meglio, io l'ho preso a un prezzo veramente esagerato, costava sui 7.300, era esagerato, quando l'ho preso, ho sbagliato, ho sbagliato, e niente, questo, è finito qua il video, volevo farvi vedere appunto il metodo di compraventa che funziona, come potete vedere, l'overpriced selling funziona alla grande, ci sono delle liste nel mio gruppo compraventa, mi invito ad andarlo a vedere, e soprattutto vi ricordo ancora, e soprattutto le ringrazio anche Fiskoten, per la collaborazione che stiamo facendo, come ho detto appunto nella prima parte, nella parte centrale del video, dateci un'occhiata perché potrebbe essere molto interessante, per avere magari una vostra attività, cliccate il primo link che trovate in descrizione, ok? Dateci un'occhiata, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, e niente, ci vediamo alla prossima ragazzi, lasciate like e iscrivetevi, e niente, dateci un'occhiata al gruppo compraventa, ok? Ciao!